Nelle scorse ore la WWE ha annunciato i vincitori degli Slamy Awards 2020, cioè i premi annuali conferiti alle stelle che più si sono distinte nei precedenti 12 mesi. Per quanto riguarda il tag team dell'anno, il premio è andato agli street profits, che dunque hanno fatto doppietta, aggiungendolo a quello di superstar emergenti del 2020. I concorrenti più agguerriti tra i finalisti erano quelli del New Day e la combo Sasha Banks e Bayley, due squadre che hanno fatto parimenti bene durante l'anno che si sta concludendo, ma che forse rimangono effettivamente un'attacca al di sotto della continuità mostrata da Angelo Dawkins e da Montez Ford. Il problema ora però è di continuità. La divisione tag team di SmackDown, dove ci sono appunto i profits, non è molto profonda e al suo interno ci sono squadre che Dawkins e Ford hanno già ripetutamente sconfitto. Nel 2021 la WWE dovrà dunque dar loro nuovi stimoli e nuove sfide, oppure aumentare comunque il numero di tag team regolari, altrimenti il rischio di finire nel loop, nella centrifuga del già visto e dunque mi esalta di meno, beh, è parecchio concreto.